Quali sono i DCG da tenere d'occhio nel 2025? Quali tematiche tratteranno e riusciranno a destreggiarsi nel sempre più fitto e competitivo mondo dei giochi di carte collezionabili? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo quasi agli sgoccioli di questo 2024 e l'anno che verrà prometti di regalare altri titoli agli appassionati del settore con novità davvero molto interessanti. Tra tutti i diversi GCC che arriveranno all'attenzione dell'utenza personalmente ne ho selezionati tre che sono quelli che reputo i migliori con un fattore di crescita maggiore rispetto ai loro concorrenti. Quindi nel video di oggi andremo ad analizzare questi DCG su che opera baseranno la loro fortuna e cosa ci sarà da aspettarsi per ognuno di loro. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i tre titoli più interessanti a parer mio che arriveranno nel 2025. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con il gioco di carte collezionabili a tema League of Legends chiamato Rune Battleground. La Riot Game, creatrice del MOBA più famoso al mondo, ha deciso di buttarsi in questo nuovo progetto con data di pubblicazione il prossimo anno, non definendo ancora però giorno e mese. Il trailer pubblicato sul web mostra icone note ai giocatori che vanno poi a lasciare spazio ai campioni dell'arena concludendo la transizione in un dorso di una carta tenuta in mano da un appassionato che per l'appunto riporta a chiare lettere il nome del gioco online. Bellissimo e non vedo l'ora di giocarci ma bisognerà aspettare. Eh sì Arconte dovremo aspettare il 2025 nuove notizie per quanto riguarda il suo lancio qui in occidente. Mi spiego meglio, probabilmente non lo vedremo l'anno prossimo ma ci vorrà qualche tempo in più. Infatti il TCG in questione è esclusiva per il mercato cinese e non si sa né come né quando il prodotto arriverà in Europa. Ma se vorrete comunque iniziare a sbustare qualcosa senza aspettare eventuali traduzioni potrete sempre rivolgervi al mercato estero per trovare una soluzione a qualsiasi disagio. Amanti dei robottoni più famosi della storia, preparatevi, il GCC dei Gundam sta per giungere. In arrivo nel 2025, in tutto il mondo, Italia compresa, sarà interessante vedere come si svolgeranno le dinamiche di questo gioco di carte. A prima vista sembra un mix tra Digimon e One Piece, ma sono certo che avrà delle sorprese da rivelare. In più essendo già stati annunciati degli articoli speciali come il Limited Box versione beta, che uscirà questo dicembre, in anticipo si potranno mani sugli elementi distintivi del titolo basato sull'opera d'arte nipponica, per saggiarne la qualità ma soprattutto la bellezza. Questo prodotto in particolare potrà essere reperito al costo indicativo di 70 dollari e conterrà 16 booster pack con 9 carte ciascuno, una carta rara leggendaria, un set da 56 carte, due tappetini con regole di gioco integrate e 6 dadi danno che riporteranno alcuni tratti presenti nel gioco. Datemi giusto il tempo di reperire ulteriori informazioni ed inizierò a lavorare su un TCG meno di 20 minuti dedicato proprio a questo titolo. E a proposito, stanno per arrivare prima della fine dell'anno nuovi protagonisti di quest'ultima serie presente sul canale. Restate aggiornati su Instagram, link in descrizione, per scoprire le date di pubblicazione di ogni singolo episodio che verrà. Ultimo titolo vede un Made in Italy che abbiamo già trattato sul canale in una live dedicata che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento. Battle of Shield per quanto mi riguarda va attenzionato particolarmente perché ha una dinamica di gioco semplice e intuitiva e soprattutto rapida da apprendere. Le carte inoltre non sono affatto male e la grande fase di playtest che stanno affrontando i creatori grazie anche al supporto di collaboratori fidati affina sempre più le meccaniche del gioco rendendo a mio parere un titolo che può dire la sua nel mercato underground regalando piacevoli sorprese. Ho avuto modo di giocarci di persona alla fiera di terni e devo dire ho praticamente svolto tre partite nell'arco di un quarto d'ora. La prima in compagnia di Federico, il creatore che ha insegnato le basi del gioco sia a me che al mio compagno di avventure Emiliano che saluto e le restanti due praticamente muovendoci da soli. È bastato fare giusto un paio di domande al diretto interessato su punti che c'erano poco chiari e da lì il gioco è stato fatto. Siamo stati pronti a darci battaglia sulla plancia di gioco senza l'intervento di nessuno. In più dopo aver alzato un paio di critiche costruttive so per certo che l'intero team di sviluppo si sta muovendo per colmare le lacune e questo è sicuramente ammirevole. Si vede che ci tengono alla crescita sana del gioco e perciò auguro un buon lavoro ai signori di Battle of Shield invitando voi tutti a dargli una possibilità se ne avrete l'occasione. Non ve ne pentirete. Menzione d'onore va al TCG di Ultraman che per chi non lo conoscesse è il protagonista della famosa serie televisiva giapponese andata in onda per la prima volta nel lontano 1966. C'era la guerra nel Vietnam per farvi capire. E parla dei soliti kaiju che minacciano la terra e altri eroi che li prendono a schiaffi. Ordinaria amministrazione. Ovviamente nel mentre del combattimento si spalleranno palazzi, ci si picchierà con pullman pieni di gente, si utilizzeranno i treni come nunciaco e quanto più di bello ci possa essere nel vivere in un paese che invece di essere salvato riceverà più danni del passaggio di un terremoto. Insomma se vorrete dargli uno sguardo è già disponibile in mercato. Ha pochi prodotti a disposizione. Potrà essere reperito dalla vostra fumetteria o centro ludico di fiducia se lo richiederete espressamente salvo accordi con i distributori. Concludendo quindi ci siamo quasi il 2025 alle porte e i titoli che sono stati menzionati stanno dando il meglio per presentarsi ai blocchi di partenza di un anno che si prospetterà davvero molto interessante per quanto riguarda il mondo dei giochi di carte collezionabili. E voi quale GCC avete adocchiato nello specifico? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.